Ciao ragazzi e bentornati sul canale, anche oggi si parla di film, ma prima, sigla! Oh ragazzi, parliamo ancora una volta di film horror, parliamo di Noi, un film che ho atteso tantissimo perché avevo apprezzato molto Get Out, credo di aver affibbiato Get Out, una valutazione di 21 su 25 un film horror che risulta forse meno comprensibile, soprattutto inizialmente, di Get Out e non saprei dire se è migliore o peggiore o se siamo sullo stesso livello perché sono film molto diversi seppur entrambi condividono un'analisi sociale, una base, diciamo, di discussione che poi può nascere da questo film che io apprezzo molto negli horror, come sapete, in Get Out il messaggio è molto più lapalissiano molto più evidente, molto più chiaro Noi ha molte più possibilità di lettura e proprio per questo alcuni passaggi risulteranno forse più difficili per la buona parte del pubblico e altri necessitano per forza di spiegoni interni spiegoni che sono utili, sono portati avanti bene, ma come sapete io tendo ad apprezzarli meno quindi questo film da una parte mi ha colpito molto, dall'altra mi è dispiaciuto un po' di più rispetto a Get Out quindi insomma stiamo lì comunque sia tutto diciamo che dipende da cosa cercate in un film horror se da un film horror vi aspettate appunto tutta una parte di analisi corposa che magari vi può chiudere i pensieri per la giornata successiva e farvi confrontare con gli altri sicuramente apprezzerete Get Out magari lo apprezzate già visto che è uscito da parecchio nelle sale ora però di che parla questo film visto che abbiamo già buttato alcuni elementi il film segue le vicende di una famiglia, una famiglia di colore, madre padre e due figli un figlio e una figlia, che stanno andando in vacanza a Santa Cruz vanno lì ma lei non è molto felice di andare a Santa Cruz si intuisce che abbiano una casa vacanze, una casa della madre non si capisce mai se era una casa vacanze appunto o se è dove lei ha vissuto per tutta la sua giovinezza fatto sta che in quella giovinezza o forse in una vacanza a Santa Cruz lei, Adele, la madre da piccola ha avuto un trauma un trauma importante che ci viene narrato e mostrato nei primi istanti del film e che tornerà in vari momenti come flashback che si ricollegherà in modo preponderante a quella che è la trama principale perché dopo un'iniziale insomma tensione stemperata però nella vita quotidiana che si avverte, si realizza e concretizza anche con un buon montaggio una buona regia e gestione di tutta la componente sia visiva che audio quindi la componente audiovisiva in effetti si arriva all'evento scatenante che porterà proprio alla narrazione principale del film una notte dopo che sono stati a mare vengono davanti casa un'altra famiglia una famiglia che porta con sé tutti gli elementi classici dell'home invasion del classico horror in cui qualcuno entra in casa e dà dei problemi a chi ci vive questi elementi però sono particolari sono arricchiti da un ulteriore elemento che si vede già nei trailer ossia la famiglia che si presenta alle porte della casa della nostra famiglia principale è una famiglia di doppelganger quindi sono dei doppioni, dei doppioni a tutti gli effetti delle versioni alternative più abbrutite sotto certi punti di vista ma migliori sotto altri punti di vista e ne parleremo ampiamente magari fra un po' dentro una parte spoiler questi doppioni non si sa bene cosa vogliono si presentano lì ma chiaramente non hanno buone intenzioni sembrano avere intenzioni bellicose e sembrano pronti a lottare per prendersi qualcosa per completare una sorta di rituale o almeno nei toni che vengono usati sembra si parli di un rituale che riguarderà chiaramente delle intenzioni violente nei confronti della famiglia che stiamo seguendo la famiglia Wilson dal nome del marito ok da qui in poi non dirò nulla perché da qui in poi cominciano gli elementi che dovete gustarvi elementi però che risultano essere interessanti le cose molto positive di questo film avvengono già nei primi istanti e questo mi ha portato un po' poi di amaro in bocca per la successiva gestione delle parti più avanzate perché la parte iniziale con la narrazione di Adelaide da bambina a Santa Cruz e del suo trauma è gestita benissimo non succede nulla non è nulla di evidente non ti fa vedere nulla perché te lo farà vedere più avanti ma è bellissimo il fatto che con un semplice montaggio con una semplice scelta registica e un'attenzione all'uso della componente audio soprattutto si riesca a palpare proprio la tensione il pericolo qualcosa di latente che sta lì e che poi si abbatterà su Adelaide ma non sai cos'è non c'è niente di realmente minaccioso se non la percezione alterata proprio da quest'uso di una regia e di una componente di montaggio audio incredibile e il peccato arriva dopo perché questa componente poi si va a perdere nel film e ritorna solo in alcuni momenti più avanzati nella conclusione forse anche volutamente ma risulta essere un po' un peccato proprio perché inizialmente io ero scioccato ero in sala e facevo ragazzi se questo è il livello della gestione proprio tecnica di tutto il film sono scioccato perché un intero film così è tipo capolavoro poi purtroppo si perde un po' si perde un po' e entra la narrazione un po' più classica si riconosce comunque Jordan Peele dietro la macchina da presa è evidente proprio è un comico che è riuscito a farci comunque due film horror di questa portata secondo me c'è poco da fare è già un grande almeno per me purtroppo poi arriva la parte di componente da Home Invasion che diventa molto classicamente un Home Invasion e funziona bene ma comincia a darci degli elementi che ci permettono di conoscere questi doppioni non dirò nulla ripeto su questi doppioni ne parliamo a fine video in una parte spoiler in cui mi sentirò libero di entrare nei significati del film che sono la parte più importante quindi se non avete colto alcune cose vi invito a restare sintonizzati perché ne parliamo dopo però dicevo c'è tanto da quel punto di vista e se apprezzate questo questo horror vi soddisferà sicuramente se apprezzate appunto più l'horror classico appunto le componenti magari più da tensione dell'horror quelle verranno meno rapidamente o quantomeno non riusciranno a tenervi su in termini di tensione quindi se volevate più un Home Invasion classico se volevate più quella tensione qualche jump scare ben piazzato c'è una poca roba se volevate insomma però un film più basato sul terrore vero e meno sulla filosofia del terrore questo film potrebbe non incontrare la vostra soddisfazione soprattutto perché da un certo punto in poi da metà film in poi si abbandona la componente dell'Home Invasion e si entra gradualmente sempre più nei significati che sono il reale obiettivo del film quindi se quei significati ovviamente per voi non sono parte fondante dell'horror non li apprezzerete, c'è poco da fare personalmente invece risultano essere la parte che a posteriori una volta elaborato bene il film una volta fatto sedimentare analizzato tutti i suoi possibili riferimenti sono la parte vincente, davvero vincente del film detto questo quindi che dire se non prima di passare alla parte spoiler che è un film sicuramente che consiglio se amate gli horror di stampo filosofico se amate riflettere sulle cose questo film sicuramente vi piacerà forse vi piacerà anche più di Get Out complessivamente mi sento di dire che la necessità di dover mettere degli spiegoni che non potevano essere inseriti diversamente secondo me fa perdere un po' dell'efficienza narrativa del film dall'altra parte abbiamo la simbologia che davvero si apre a tanti ventagli di possibilità e questo può spiazzare almeno in una prima visione può spiazzare genericamente può far uscire con troppe cose in testa e quindi magari nell'immediato può far uscire non totalmente soddisfatti dalla sala ma se date il tempo e se vi concedete il tempo il lusso di poter perdere del vostro tempo e delle vostre riflessioni su questo film sicuramente riuscirete ad apprezzarlo troppo detto questo io vi saluto e vi invito intanto a iscrivervi al canale condivisioni like simili se non avete visto il film altrimenti vi invito a restare qualche istante perché ora passiamo alla parte spoiler passiamo alla parte spoiler perché ragazzi dobbiamo parlare dei significati perché è la parte centrale di questo film questo film da quel punto di vista è mastodontico a tratti Get Out si concedeva un concetto principale ovviamente ora è passato anche troppo tempo lo dovrei rivedere per apprezzare bene le sue sfumature però il tema fondamentale era chiaro in Get Out ed era la questione del razzismo la questione della disuguaglianza sociale dello sfruttamento di determinate razze tra virgolette razze perché il concetto di razze a livello genetico non esiste ragazzi cioè ci sono delle differenze genetiche e grazie al cavolo ma ci sono fra tutte le persone differenze genetiche la razza dal punto di vista scientifico non esiste è variabilità interna alla biodiversità della specie Homo sapiens ok? come per tutte le specie in realtà ma vabbè ora qui le tematiche sono tante partiamo da quella evidente che si ricollega alla questione di Get Out lo sfruttamento diciamo sociale di qualcuno che è considerato inferiore in questo film i doppioni sono un esperimento diciamo statale che è andato male un esperimento fatto per cercare di creare dei doppioni che condividessero l'anima con la persona reale perché c'è il concetto di anima che è condivisa e quindi utilizzare il doppione per controllare la popolazione questo esperimento è andato un po' a puttane non ha portato ai risultati sperati e semplicemente questi doppioni nessuno si è preso la briga di sopprimerli tutti sono stati abbandonati lì e basta a morire dando forse per scontato che servono morti o chissà magari c'era qualcuno che li controllava inizialmente poi chissà per quale bizzarro motivo qualcosa è andato storto e sono rimasti lì nelle viscere dell'America a fare la loro vita a portarla avanti in uno stato di totale abbandono e di conseguenza di totale abbrutimento sociale quindi già qui abbiamo tante tematiche e ve ne rendete conto da soli una volta che sviscerate tutti gli elementi a voce alta perché da una parte abbiamo appunto la tematica del classico controllo sulle masse è una tematica che oggigiorno con tutta la questione di social media sta esplodendo e quindi si parla tanto di queste cose ci sono tante teorie complottistiche atte a sottolineare questo ipotetico controllo e forse un po' da anche un bastone e un osso ecco a chi di queste teorie vive in questo film però non è l'obiettivo fondante del film il film ci vuole parlare dei doppioni ci vuole parlare di questa società moderna che vive nel lusso del consumismo nell'inseguire i propri bisogni e lo vediamo bene soprattutto con la famiglia di amici in cui tra l'altro abbiamo l'attrice del racconto dell'ancella che ormai sono schiavi del consumismo e loro sono proprio plateale diciamo manifestazione di come la vita di qualcuno può reggersi alle volte sull'annullamento della vita di qualcun altro e questo è portato avanti dal rapporto tra le due Adele Adelaide ragazzi scusate ogni tanto mi esce Adele non so perché perché il rapporto tra Adelaide e Red è così importante perché come vedremo anche nella nella filosofia portata avanti da Red e come vedremo poi in conclusione di film con quel colpo di scena geniale in realtà loro sono quasi la stessa persona legate nell'anima ma una costretta a una vita di miseria una vita di miseria nell'ombra scopriremo sul finale che in realtà la stessa eroina quindi Adelaide che poi porterà alla vittoria e quindi riuscirà a salvare la propria famiglia uccidendo Red e tutta la famiglia di Red in realtà non è altro che la vecchia bambina quel trauma iniziale in gioventù non è stato altro che una sostituzione non era una bambina traumatizzata ma era il doppione che aveva vissuto all'ombra che non aveva avuto modo di parlare di istruirsi di capire come funzionava il mondo e che quindi fuori uscita da quella realtà lugubre del sottosuolo ha dovuto rimparare tutto e questo ci fa capire anche perché solo Red avrebbe potuto guidare tutti gli doppioni perché Red era l'unica che seppur in Bruscolini perché era ancora una bambina aveva già avuto una cultura sapeva già parlare aveva già degli elementi interni di valore ma non di valore intrinseco dato alla nascita ma di valore dato dal contesto in cui è vissuta qui abbiamo questi due elementi principali da una parte appunto come una disparità sociale possa portare la stessa persona parliamo di doppioni alla fine di fatto a fare vite completamente diverse a sviluppare potenzialità completamente diverse dall'altra appunto si parla di giustizia sociale perché quell'atto di sostituirsi è un atto brutale noi scopriamo che in realtà il personaggio che fino all'ultimo momento abbiamo creduto essere l'eroe è in realtà l'anti-eroe di questo racconto è in realtà la persona il mostro vissuto nell'ombra che ha preso il posto di chi viveva alla luce del sole con la forza con le proprie mani prendendo per il collo la bambina si è sostituita ad essa e wow questo è tanto abbiamo degli elementi Jordan Peele come sempre ci lascia delle bricioline da seguire quando la vediamo vediamo Adele ad Elaide combattere contro i doppioni delle gemelle della famiglia amica lì vediamo emergere con dei suoni gutturali dei gesti anche fisici delle espressioni emergere proprio il lato più brutale di questa ragazza e poi lo vediamo nel confronto invece finale con Red e non a caso Jason il figlio assiste a tutta la cosa ed è l'unico a capire davvero che sua madre in realtà è il doppione che un tempo si era sostituito e magari non afferra tutte le dinamiche magari non sa tutto ma arriva a capire qualcosa e quello è pure bellissimo la conclusione che ti lascia con la consapevolezza del bambino che poi dovrà crescere e quindi questa è una tematica importantissima poi potremmo parlare per ore dei doppioni del concetto di doppioni e non dal punto di vista sociale ma dal punto di vista di doppioni oggigiorno abbiamo doppioni pensateci vi dico solo che ognuno di questi doppioni seppur abbrutito in certi elementi quindi quasi iconografico porta avanti poche idee legate al suo diretto doppione alle qualità del suo diretto doppione ok Red è intelligente anche se qui su Red con tutta la questione della sostituzione possiamo diciamo tenerla temporaneamente esclusa dalla narrazione ma Jason prova i suoi trucchi di magia a quell'anello e non riesce a farlo funzionare dice che l'anello è rotto ma la verità è che noi non sappiamo se l'anello è rotto o se è lui che non lo sa usare e quindi non riesce ad avere la padronanza del fuoco del trucco magico il suo doppione Pluto se ricordo bene invece ha padronanza del fuoco addirittura lo vediamo lo controlla lo fa esplodere prepara la trappola la loro macchina quindi insomma è un piromene a tutti gli effetti migliore del bambino che sta giocando con il fuoco la bambina Zora è una grande scattista in grado di correre a grandi velocità ma il suo doppione ne è migliore quindi l'elemento corsa l'elemento che in un adolescente è diventato poi la parte più importante la parte più forte della sua vita anche se vediamo che c'è anche un modo di ribellione tipico dell'adolescenza è molto realistico nella narrazione di certi elementi buttati anche lì per poco ma che ci sono comunque si dicevo lei è una grande scattista e però il suo doppione è migliore le dà il tempo la fa partire perché tanto sa che la recupererà il padre lo vediamo grande e grosso così minaccioso e poi dal suo doppio viene annichilito nel giro di niente perché quello è più forte e tutti i confronti con i doppioni ci fanno capire una cosa quei doppioni se avessero avuto l'intelletto se avessero avuto modo di essere diciamo di potersi sviluppare davvero sarebbero stati migliori e lo vediamo ancora una volta e qui mi ricollego con il rapporto tra De Laide e Red sembra che Red possa avere la meglio su De Laide per tutto il film perché sembra che Red sia più sveglia ma la verità è che quella più sveglia è a De Laide che quantomeno è anche quella più forte che nello scontro finale riesce a soffocare e a vincere Red e perché riesce a farlo? perché è un doppione le sue qualità sono migliori e perché a differenza di tutti gli altri doppioni lei vince doppione all'interno della famiglia e non di tutti quegli esterni che vediamo invece che hanno portato avanti a compimento i loro omicidi perché lei riesce a vincere? perché lei è un doppione che ha potuto esprimere il massimo delle potenzialità perché lei ha passato il resto della sua vita fuori dalla tana del bianconiglio diciamo così wow capite bene che tutto questo sta forse in parte almeno volutamente strizzando l'occhio a quello che è la vita quotidiana su internet tutti abbiamo un profilo che non siamo noi è un nostro doppione è una versione migliore o più estremizzata quanto meno di alcune nostre caratteristiche questo è un elemento sicuramente non l'elemento importante sicuramente non un elemento principale ma è sicuramente un elemento importante e poi c'è tutta la narrazione del mito legato a questi doppi che vivono nel sottosuolo che intendo con narrazione del mito allora intanto c'è la citazione biblica ancora una volta 1111 speculare come doppioni ma la narrazione aspettate questo la devo leggere eccomi ragazzi allora la leggo Geremia 1111 perciò così parla il signore ecco io faccio venire su di loro una calamità alla quale non potranno sfuggire essi grideranno a me ma io non li ascolterò di che sta parlando chi è che porta avanti questo Geremia 1111 questo è forse uno di quei di quelle letture un po' più complesse secondo me ma io penso proprio che a parlare sia Red è il popolo a cui sta dando speranza sono i doppelganger il popolo che invece sarà costretto alla calamità siamo noi che viviamo sulla terra perché lei porterà tutto il suo popolo fuori diventeranno loro la calamità diventeranno loro i fautori di questa diciamo rivoluzione è come se paradossalmente Red sia per questo popolo un nuovo dio un dio punitivo il dio dell'antico testamento per noi che viviamo sulla terra è un dio di speranza invece per chi sta sotto per tutti quelli che porteranno la calamità che saranno parte della calamità oltre questo nel film ci sono tantissimi simbolismi vabbè il coniglio è una classica cavia da laboratorio lo vediamo ci abbiamo fatto tantissimi esperimenti sui conigli in passato quando ancora prima poi non ce ne fregava niente diciamo di considerare le parti più importanti dell'etica più sofisticate arriveranno in seguito insomma nella scienza però sicuramente possono essere un riferimento a questo le forbici sono un altro riferimento e cosa si fa con le forbici ipoteticamente si tagliano i fili per esempio e quando tu sei un burattino legato attraverso un'anima a chi vive sopra di te nella parte luminosa del mondo cosa fai tu semplicemente uccidendolo con quelle forbici stai tagliando i fili che ti legano sei finalmente libero c'è poi un riferimento ovviamente alla campagna che voleva essere positiva hands across america mi sembra si chiamasse che vediamo nello spot tutti quegli elementi sono importantissimi perché sono la costruzione il monte sacro su cui la bambina che era la De Laide originale che poi diventerà la nostra Red ha al suo interno è quel poco che aveva vissuto quello che l'aveva colpita in quei precisi anni della propria vita che quando è finita il sottosuolo ne ha creato diciamo un'iconografia un'iconografia quasi biblica su cui costruire il suo impero su cui far risvegliare le masse dei uomini dei doppioni che vivevano nel sottosuolo e guidarli verso la liberazione attraverso questo atto rituale volutamente rituale quasi religioso infatti non a caso abbiamo appunto per esempio la divisa rossa che può ricordare molto la divisa di thriller almeno a me ha fatto pensare a questo di Michael Jackson e lei non a caso aveva la maglietta di Michael Jackson e quindi il gesto di unire le mani ipoteticamente da una costa all'altra dell'America per dire al mondo noi siamo qui per manifestare la propria presa di posizione non sull'aiutare qualcuno ma sul volere la propria libertà sul dire noi esistiamo guardando poi il tramonto che semplicemente persone che hanno vissuto all'ombra non possono non possono semplicemente farlo e ci sono tanti piccoli elementi del genere il film è pieno zeppo di possibili citazioni agli horror citazioni alla cultura horror in genere ma citazioni anche agli anni di cui è figlio e c'è c'è tanto di cui si potrebbe parlare meriterebbe una seconda una terza una quarta visione per davvero arrivare a sviscerare tutti i possibili livelli di lettura e sono sicuro che magari qualcuno mi è sfuggito qua e là e proprio per questo magari vi invito a commentare qui sotto a farmi sapere che ve ne è parso di questo film a farvi sapere che ve ne pare delle letture che ho diciamo personalmente trovato come valide che ho qui esposto e fatemi sapere se ne avete ulteriori se avete ulteriori livelli di lettura ora sto registrando molto dopo aver visto questo film quindi alcuni passaggi potrei essermeli un po' persi nella memoria meritava un rewatch prima di essere di poter registrare ma il tempo in questo periodo è quello che è e quindi ho preferito prendermi questo momento per registrare senza rimandare ulteriormente e poi magari diventava un film che finiva nel dimenticatoio di cui non vi avrei parlato e nulla ragazzi quindi vi invito a darmi la vostra opinione siamo a degli horror filosofici anche un po' insomma basati proprio sulla filosofia non sul terrore per proprio tant'è che Black è venuta con me a vederlo al cinema e lei è una che si spaventa facile e ha detto ma non è un horror vero perché mancano quegli elementi dell'horror vero e questo potrebbe far invece scontenti chi vuole magari chi voleva un home invasion classico con un po' di elementi diciamo horror più classici diciamo così mi sto dicendo diciamo e classici un po' troppo quindi forse mi sto ripetendo quindi diciamo semplicemente che vi invito diciamo ancora una volta a commentare qui sotto a dirmi la vostra potete anche scrivere diciamo prima di cominciare visto che oggi è la parola del giorno e nulla ragazzi vi invito come sempre a condivisioni like iscrizioni schiacciate quella stramaledetta campanella ricordatevi social gerus instagram gerus consiglia e insomma ci si vede la prossima volta ciao belli grazie 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 a tutti